Qual è l'approccio di Terna nei confronti della sfida della transizione ecologica? L'approccio di Terna è essere l'abilitatore, questa parola l'avete sentito ripetuto tante volte, ma cosa significa? Significa che per riuscire a fare sì che tu cucini utilizzando elettricità e che tu ti muova utilizzando macchine elettriche, devo portare l'elettricità pulita in giro per l'Italia. Per farlo ho bisogno di Terna che è l'autostrada dell'elettricità e perché questo avvenga, perché l'elettricità che per lo più produrremo tramite i rinnovabili in alcune parti d'Italia raggiunga tutti gli altri punti, è necessario costruire e rafforzare le infrastrutture. Nel corso del suo intervento ha parlato dei costi della transizione energetica e del fatto che bisogna calcolarli correttamente. Sì, quello che volevo dire è che prima di tutto bisogna pensare, quando si calcano i costi bisogna pensare qual è il mondo che sarebbe se io non facessi gli investimenti che vado a fare e come sarebbe. Quindi bisogna avere in mente un benchmark molto chiaro che non è il momento corrente, ma è invece un'evoluzione nel momento corrente che è caratterizzata dal problema del cambiamento climatico. Cioè se non faccio niente, quello che succede è che verranno incontro a noi dei costi che si distribueranno sulle persone con reddito diverso in un modo molto specifico. L'altra cosa che devo fare quando calcolo i costi non può essere soltanto calcolare il puro costo dell'investimento, ma deve essere anche calcolare tutti quelli che sono gli altri effetti del mio investimento. Se il mio investimento, oltre a decarbonizzare l'economia, aumenta il benessere delle persone che abitano nel nostro paese, questo deve essere calcolato in qualche modo e incluso nel calcolo del costo. Integrazione, elemento necessario per la transizione ecologica, l'abbiamo visto anche oggi nel corso del dibattito. A che punto è in Italia? Dunque, nella ricerca che informa questi processi è già molto avanti. Io penso che a livello invece del settore privato e di quello che è l'amministrazione, ci stiamo arrivando. Inizia a diventare sempre più chiaro la necessità di un colloquio, per esempio, tra le grandi imprese che gestiscono, mandano avanti le infrastrutture. Se tu vuoi cambiare completamente l'aspetto di un paese, non puoi permetterti che alcune imprese non parlino con altre. Per cui l'esempio di prima dell'elettrificazione del trasporto non può avvenire senza che chi mette le colonnine parli con Terna, oppure chi costruisce le automobili non parli con chi mette le colonnine. Quindi ci deve essere per forza un'integrazione nel settore privato e a monte, quindi anche nella parte dell'amministrazione pubblica che racconta e descrive le regole del sistema.